Diamo uno sguardo al futuro, che cosa ci proporrete nella seconda parte del 2017 e poi nel 2018? Allora, nel 2017 il primo film uscirà il 31 agosto e si intitola Un profilo per due. È una commedia francese su un vedovo a cui regalano un computer e un tecnico insegna all'utilizzo di questo computer per cui dopo poco questo vedovo si imbatte nei siti di dating online e mettendo nel suo profilo la foto del tecnico che gli ha appena insegnato a utilizzare il computer riceve il primo appuntamento da una bella ragazza, 31enne appuntamento al quale invia il tecnico è una specie di Sirano 2.0 questo film perché poi l'anziano vedovo rimane a vedere come si evolve l'appuntamento con il ragazzo che lui ha mandato al suo posto e si scateneranno una serie di equivoci poiché lui non sa che questo ragazzo si era appena finanzato con sua nipote quindi si scateneranno una serie di equivoci che rendono la commedia molto divertente poi successivamente usciremo con il film di Cedric Lapiche Ritorno in Borgogna che è un Dremedi è una storia di tre fratelli che ereditano una grande vigna in Borgogna e alla morte del padre uno dei tre fratelli che viveva lontano in Australia rientra in famiglia e ci sono una serie di rapporti familiari molto interessanti che riguardano i tre fratelli infatti ad esempio in Francia il film è appena uscito con il titolo quello che ci unisce perché appunto il film è molto introspettivo su come riusciranno questi tre fratelli a portare avanti un'attività abbastanza impegnativa e il film tra l'altro è uscito in Francia a metà giugno è già arrivato a circa 3 milioni di box office e quindi quando è uscito era il secondo risultato dopo la mummia quindi insomma sta andando molto bene quindi confidiamo che anche in Italia vada altrettanto bene poi abbiamo due eventi due documentari che faremo uscire in evento il primo è Il senso della bellezza arte e scienza al CERN di Valerio Ialongo che uscirà in ottobre ed è appunto girato al CERN dove lui è stato due anni a girare è un po' malichiano perché si fanno degli accostamenti tra la bellezza e la perfezione della natura e della bellezza comparata con la scienza e l'arte quindi insomma è abbastanza interessante penso che faremo anche un buon lavoro con le scuole con questo documentario più avanti usciremo anche con il documentario di Sophie Fiennes sorella dei due attori su Grace Jones la regista ha seguito Grace Jones per 5 anni sia nei concerti sia nella vita familiare Jamaica inclusa e quindi il film uscirà il 16 ottobre in Inghilterra e noi dovremo attendere quella data per poter uscire poi in Italia poi abbiamo un film molto bello che si intitola Un amore sopra le righe che è un'originale storia di una coppia di scrittori il film è raccontato tutto in flashback dalla moglie che alla morte del marito famoso scrittore viene intervistata da un giornalista e racconta i 45 anni di vita insieme dalla coppia svelando diversi segreti passioni, tradimenti si scoprirà che la ghostwriter era lei del marito diventato famoso scrittore che lui si spacciava per ebreo mentre in realtà era lei che era ebrea non lui insomma tutta una serie di cose è molto originale e ben fatto è un film su cui puntiamo molto poi avremo una commedia che uscirà a Natale in Francia il 20 dicembre con Wild Bunch che si intitola Un marito in due dove quando la moglie scopre che il marito ha un amante proporrà una strana soluzione cioè proporrà di alternare che il marito si alterni una settimana dalla moglie e una settimana presso l'amante questa cosa sembrerà molto interessante per il marito in un primo momento ma poi nel tempo si rivelerà un po' complicata e non come lui pensava in un primo momento infine abbiamo una commedia molto ironica un po' sullo stile di Goodbye Lenin che si intitola Sergio e Sergei l'astronauta e il professore ed è ispirata parzialmente a una storia vera di quando nel 1991 nella Mir un astronauta sovietico rimase più di 300 giorni in orbita perché in quel periodo crollò l'Unione Sovietica e quindi avendo altro a cui pensare i dirigenti dell'Unione Sovietica lasciarono questo astronauta più del dovuto prima di dargli il cambio nel film si ipotizza romanzando un po' che un cubano entra in contatto con la propria radio con l'astronauta e attraverso uno sponsor americano organizzerà una missione per riportarlo a terra appunto con la Coca-Cola che visto il periodo della guerra fredda in cui si svolge insomma è abbastanza ironico che servisse uno sponsor americano per riportare a casa un astronauta russo è un film molto divertente che piace molto ho visto finora crescere grazie mille